Ben trovati, parleremo del premio Best Banks Italia, eccellenze regionali Sicilia, un premio davvero molto importante ed è stato assegnato alla Banca Sicana, l'istituto di credito cooperativo con sede a Caltanissetta. Ne parliamo oggi con il Presidente, do il benvenuto a Giuseppe Di Forti. Ben trovato Presidente. Grazie, buonasera. Un premio davvero molto prestigioso, un premio che affonda le sue radici nell'ambito di Milano Finanza Banking Awards 2022, che ha promosso ed organizzato dal punto di vista finanziario questa premiazione con MF Milano Finanza. Un premio per il quale c'è un grande lavoro, un lavoro durato anni. Ci racconti un po'. Milano Finanza, che conosciamo essere uno dei più prestigiosi quotidiani economici nazionali, annualmente organizza questa classifica, perché poi in realtà è una graduatoria basata su indici, quindi su parametri tecnici, delle banche italiane. Divise chiaramente per dimensioni, quindi nella dimensione 60 miliardi, dove rientrano un po' le 17 banche di credito cooperativo, anzi 15 banche di credito cooperativo siciliane, più le due popolari siciliane, la popolare di Ragusa, la popolare San D'Angelo, e quindi siamo rientrati anche noi. Per il 2022, sulla base del bilancio 2020, abbiamo di fatto scalato la classifica, ci siamo classificati primi per solidità, produttività ed efficienza. In parole povere vuol dire patrimonio, qualità dell'attivo e redditività della banca. Quindi è poi un indice sintetico che costruito con questi sotto indici ci dà la qualità complessiva della banca. Per noi è stata anche una grande soddisfazione, perché chiaramente viene anche dopo tanti anni di lavoro, di riposizionamento della banca, di raffinamento anche appunto della qualità, della produttività, eccetera. Ed è un riconoscimento non solo per la banca, per i dipendenti della banca, ma anche per la comunità di appartenenza. E' stato anche un onore a Milano andare a ritirare questo premio, tra i big del mondo del credito, ovviamente, e rappresentare la Sicilia per un fatto positivo, un'eccellenza regionale appunto. Essere un'eccellenza al centro della Sicilia fa la differenza ed è fortissimo il legame che lega la vostra realtà, quella della banca di credito cooperativo, della banca sicana appunto, sul territorio. Parliamo di 15 filiali, parliamo di una copertura di competenza territoriale che abbraccia 51 comuni in tutta la Sicilia. Quanto è importante questo legame con il territorio? Il legame fondamentale, la banca sicana, come tutte le banche di credito cooperativo, sono delle banche locali, fortemente legate al territorio. Ci teniamo perché il nostro tratto distintivo sono banche di credito cooperativo che non hanno finalità di lucro, quindi non si distribuisce il dividende, non c'è capitale. Il capitale più importante è il capitale umano, quindi i nostri soci e i nostri clienti. Facciamo il credito con questa formula cooperativa, come dice la parola, cioè cooperiamo insieme da 130 anni, con l'entusiasmo, l'animo che anima queste banche, che non a caso sono state anche definite banche con l'anima, l'anima del cooperatore che avvicina questo sistema di banche, che poi è un sottinsieme nel sistema delle banche nazionali, al territorio, quindi alla persona, al cittadino, al piccolo commerciante, il professionista, lo studente, la famiglia e questo è il nostro target. Quindi nulla a che vedere col sistema bancario ordinario che invece esprime l'industria cosiddetta bancaria, noi siamo piccoli artigiani del credito, piccoli ma efficienti e non per questo meno solidi. Ci aiuti proprio a fare una ancora più semplice differenza tra le banche locali e quelle nazionali. Come ci dobbiamo districare per poter capire le differenze, ma soprattutto per comprendere fino a fondo i valori aggiunti? Le banche di credito cooperativo sono state organizzate da tre anni, grazie a una riforma, in un sistema capeggiato da una capogruppo. In Italia sono state costituite due capogruppo, la nostra è Cassa Centrale Banca, mentre l'altra capogruppo è l'ICREA. E quindi le banche di credito cooperativo italiane, oggi siamo 238 circa, si sono divise in queste due capogruppo. Le capogruppo sono sotto forma di SPA, sono state dotate per legge di un capitale minimo di un miliardo di euro, ma la cosa più interessante è che non solo capogruppo garantisce le proprie affiliate con questo miliardo e passa di euro, ma le singole BCC si sono legate con un patto di coesione fra loro. Patto di coesione vuol dire che il patrimonio di ogni singola BCC è stato messo a disposizione del mercato per garantire ogni banca di credito cooperativa appartenente al gruppo. Quindi oggi le BCC si presentano super solide praticamente al mercato, è praticamente impossibile che si possa verificare un default di una banca di credito cooperativo, le cui dimensioni ovviamente sono minime rispetto al gruppo e quindi ampiamente garantite dal patrimonio di gruppo e da questo patto di solidarietà. Mentre viceversa le banche di credito cooperativo conservano questa elasticità e questa prossimità al territorio che è il loro reale punto di forza. Infatti esercitano il credito col modello della cosiddetta banca corta, diciamolo perché è un modello molto efficiente che i grossi istituti di credito cercano anche di imitare da anni ma ovviamente hanno altri vantaggi e delle limitazioni. Vuol dire che dalla prossimità, quindi dallo sportello, dal primo approccio che è il cliente allo sportello al vertice della banca di credito cooperativo ci sono veramente pochi passaggi. Nel nostro caso tre al massimo quattro perché ci sarà il direttore dell'agenzia dopo di che c'è un responsabile dell'ufficio FIDI, poi già siamo al direttore generale e poi siamo al presidente della banca e quindi siamo ai vertici. Vertici locali, conosciuti, noti che ci mettono la faccia e quindi questo è il motivo per il quale una banca di credito cooperativo è così fortemente legata al territorio e dà anche questa soddisfazione al cliente. Raramente un cliente che ci conosce poi ci abbandona. Ma la cosa bella, mi permetto di aggiungere, un po' come quello che mi diceva fuori dalle telecamere è che poi si conoscono davvero i clienti perché c'è il dialogo, c'è ancora quella componente umana che è garantita da questa realtà che è una realtà territoriale. Il legame con il territorio si esprime anche dal fatto che la vostra sede è una delle sedi che possiamo dire brillano per bellezza, la scelta anche che è ricaduta su una delle realtà più belle che abbiamo territorialmente qui a Caltanissetta, questa congiunzione territorio-arte ma anche finanza, come è venuta fuori? Questa è una caratteristica nostra di Banca Sicana, abbiamo abbracciato ormai da anni il marketing, un marketing cosiddetto culturale, forte di questa bella sede che ci siamo diciamo costruiti a Caltanissetta in un certo senso, stavo dicendo ritrovati, in realtà l'abbiamo ovviamente scelta, l'abbiamo restaurata con la cura e la passione che si deve a un oggetto prezioso, mi riferisco al palazzo dell'ex poste centrale di Caltanissetta, palazzo vincolatissimo per le sue bellezze storiche, artistiche e architettoniche, all'interno c'è un importante impianto artistico del palermitano Gino Morici che noi abbiamo implementato con l'acquisto sul mercato di altre opere, pittoriche e anche nonne, e ne abbiamo fatto un vero e proprio museo che abbiamo messo a disposizione del territorio della città, anche dei visitatori che vengono fuori città. Oggi chi vuole studiare Gino Morici nell'arco della sua vita artistica a Caltanissetta possiamo dire che abbiamo la più alta concentrazione delle opere di Gino Morici e lo può vedere in tutte le sue espressioni artistiche. Ma abbiamo avuto anche un'altra fortuna, noi abbiamo una sede distaccata a Sambuca di Sicilia, paese dell'Agrigentino, borgo più bello d'Italia di tre anni fa, eccetera, dove anche lì abbiamo trovato non solo una bella sede storica, ma abbiamo una biblioteca, la Biblioteca Navarriana, dove custodiamo oltre 3.000 testi di Emanuele Navarro della Miraglia, alcuni addirittura manoscritti originali, corrispondenza con grandi poeti scrittori dell'epoca come Verga, Pirandello, eccetera, e quindi anche lì custodiamo un luogo identitario della memoria che abbiamo messo a disposizione degli studiosi, del territorio, degli studenti, insomma anche della città, e per cui abbiamo sposato questo marketing culturale. Una cosa che può sembrare strana, ma così in realtà non è per una banca locale, perché noi crediamo che non possa esistere una banca florida in un territorio sterile. E quindi noi seminiamo il territorio e lo seminiamo alla base con la cultura, perché sta nel nostro DNA, nella nostra missione statutaria. Le banche di credito cooperativo non esercitano solo credito in maniera sterile e arida, ma hanno anche come missione quello di accompagnare nella crescita culturale le comunità e quindi le componenti della comunità che servono, in una crescita culturale, quindi anche umana, anche sociale, quindi una crescita diciamo multidimensionale che non è solo quella economica. Io Presidente, a questo punto direi che Banca Sicana è proprio pensata per promuovere e valorizzare il territorio e soprattutto per potenziarlo. Quando lei prima mi stava anche un po' anticipando, ha anticipato ai nostri telespettatori il valore di una realtà come questa sul nostro territorio. Ecco, se dovesse spiegarci questo valore, come possiamo racchiuderlo in una piccola definizione? Come ce lo spiegherebbe? È un valore altissimo perché queste banche locali chiaramente per questa dimensione personale che hanno attenzione alla persona soffrono, diciamo, in un mondo che invece è governato dal capitale, chiaramente sono un po' controcorrente, diciamoci. Quindi noi esercitiamo anche con difficoltà, diciamo, la nostra prerogativa di banca locale. Lo facciamo con forza, lo facciamo perché ci crediamo, quindi io dico che laddove queste banche sono presenti, perché in non tutte le città, in non tutti i comuni sono presenti queste banche di credito cooperativo, laddove sono presenti vanno conservate e preservate e vanno viste con un occhio benevolo, con un occhio di valore, con un occhio, diciamo, favorevole. Perché? Perché tutto quello che producono queste banche, poco, molto, quello che è, è un valore aggiunto che ricade solo ed esclusivamente sul territorio. Nulla può andare fuori del territorio, tutto contribuisce invece a fare prodotti in dello nord, locale, del territorio, quindi vuol dire creare condizioni di sviluppo, condizioni di crescita migliori per le nostre comunità. E noi sappiamo che ne abbiamo tanto, tanto bisogno, soprattutto nel meridione d'Italia e nel centro della Sicilia, dove noi siamo insediati. Molto bene, Presidente. Allora, il nostro speciale a questo punto termina qui. Ci siamo affacciati sulla realtà splendida di Banca Sicana. Speriamo di poterlo fare ancora, per entrare ancora di più dentro il cuore del mondo della finanza, anche in sua compagnia, se vorrà. Ringraziamo i nostri telespettatori per essere stati con noi e auguriamo loro un buon proseguimento.